Buonasera Vittorio Zucconi, grande firma di Repubblica, corrispondente storico, inviato negli Stati Uniti. Mi sembra ad essere un monumento, storico addirittura. Sto facendo un monumento, pensa che io sono diventato giornalista per colpa tua. Ah, un'altra delle mie vittime, mi dispia, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Per noi giornalisti l'essenziale è che le cose cambino, perché la tristezza di avere... La Clinton, per esempio, per la quale ho anche grande ammirazione, una donna straordinaria, ha fatto grandi cose. Ma sarebbe un Obama, non posso dire con la gonna, perché non la porta mai, col tailleur, ecco, perché lei porta il tailleur. Sarebbe la continuazione negli ultimi otto anni. Trump sarebbe una grande novità, magari una catastrofe. Però come giornalista io voglio Trump. Io non voglio che la Juventus venga tutti gli scudetti, ma non perché sia anche juventino. Tu desideri la vittoria di Trump perché in questo caso l'essere giornalista vince su qualunque altra cosa, di la verità. Lo sono da 51 anni nel mio profondo civismo. È una maledizione questa qui. Ma lo sai anche tu. Grazie Vittorio. Posso dire una cosa? Certo. Se ti voglio ringraziare per quello che fai, perché è l'ultima trasmissione della stagione questa. Grazie a nome di tutti voi. Grazie, grazie Vittorio. La saudiamo lui per una volta. Grazie Vittorio. Ciao. Vittorio, sono io che voglio ringraziare te perché sei uno di quelli che mi ha insegnato davvero questo mestiere. Grazie davvero.